Leggero miglioramento della situazione covid in città. Secondo l'ultimo aggiornamento della prefettura, diramato dal sindaco Michele Abaticchio, i positivi sono ora 381, 361 a Bitonto, 7 a Mariotto e 13 a Palombaio. La riduzione è molto contenuta, ha commentato il primo cittadino. La fine del tunnel potremo decretarla solo dopo la conclusione delle vaccinazioni. Il calo dei contagi non deve indurci ad abbassare la guardia. La situazione regionale e provinciale è molto preoccupante. Nei comuni limitrofi, infatti, è stata accertata la prevalenza della cosiddetta variante inglese. A confermarlo è stata una rilevazione, richiesta dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità. Analizzando un campione di tamponi positivi, è stato infatti dimostrato che la percentuale per la Puglia di variante inglese del SARS-CoV-2 è del 38,6%, 38,4% per la sola provincia di Bari. La pericolosità della variante ha indotto il Presidente della Regione, Michele Emiliano, a correre ripari. Da oggi e sino al 5 marzo saranno infatti chiuse le scuole di ogni ordine e grado, eliminata dunque la facoltà di scelta delle famiglie. Gli studenti dovranno seguire le lezioni a distanza al 100%. In aula, a discrezione dell'Istituto Scolastico, saranno ammessi solo gli alunni con bisogni educativi speciali e coloro che non avranno la possibilità di avvalersi della didattica digitale integrata, non superando tuttavia il limite del 50% per ogni classe. La scelta è stata resa necessaria anche per consentire ai docenti e al personale scolastico di essere sottoposti alla somministrazione del vaccino.